Buongiorno a tutti, ci troviamo oggi domenica, ci troviamo al nuovo Libia Olimpia di Casseffrentano per il campionato di seconda categoria Gironè, scenderanno in campo, dodicesima giornata Gironè il campionato di seconda categoria, scenderanno in campo le compagini della Virtus Casseffrentano e San Martino sulla Marruccina, è una gara molto importante in quanto noi siamo due punti dietro di loro, siamo a pari punti con San Martino alla Marruccina, l'arbitro della segnazione arbitri di Pescara. Scelta del cambio, pallone, bocca al lupo, bocca al lupo. Ecco si scambiano i saluti, le due compagini, San Martino alla Marruccina, Virtus Casseffrentano, c'è un gruppo di gioventù Castellina, gli Ultras, stanno il loro sticione, tra poco inizierà l'incontro, bocca al lupo, a tutti. Il signore è inizio, io no, io sì, signore, signore, prego, il cangello deve essere chiuso. Ok. Apri per favore. L'arbitro della sezione Aglia di Pescara, da come si è presentato deve essere un duro, vediamo. Allora.